5, 4, 3, 2, 1, via, 10 tornate destro, 50, destra 5 lunga, in sinistra 4, per destra 4, per attenzione tornate sinistro, destra 3, sinistra 3, destra 3, sinistra 4, destra 4, sinistra 3, attenzione tornate destro, destra 5, sinistra 5, destra 3, sinistra 4, apre, destra 3, attento, sinistra 4, sinistra 3, chiude i tieni, destra 2, sinistra 4, la vista galleria, destra 5, attenzione sinistra 3, attenzione, sinistra 3, destra 3, sinistra 5, sinistra 3, destra 3, per subito tornate sinistro, destra 3, sinistra 3, destra 3, destra 4, sinistra 3, destra 3, 50, sinistra 4, destra 4 sinistra 3 20 destra 3 sinistra 4 destra 5,80 destra 3 apre, 50 3 apre, 50 attenzione, tornate destro sinistra 5 e sinistra 3 100 a vista sinistra 4, tieni per destra 3 attenzione, tornate sinistro attenzione, tornate sinistro sinistra 4 destra 4, vai 100 visti destra 5, lunga lunga il verde, attenzione, tornate destro meno 4 sinistra 4, due timpi destra 4 per sinistra 4 destra 4 subito, tornate sinistro tornate sinistro destra 4 destra 4 ancora sinistra 5, 20 destra 5, 20 sinistra 4 lunga, chiude poco 4 lunga, chiude poco 20, chiude poco destra 4 per sinistra 4 per sinistra 4 ancora per destra 4 50 attenzione, tornate destro sinistra 4 chiude destra 4 per sinistra 4 diventa 3 subito destra 4 sinistra 4 diventa 3 occhio, subito destra 4 80 a vista attenzione, tornate sinistro attenzione, tornate sinistro là in fondo destra 5 30 sinistra 4 30 sinistra 3 20 attenzione, tornate destro sinistra 4 per destra 4 50 50 a vista 50 a vista attenzione, tornate sinistro 80 destra 5 per sinistra 3 per destra 4 subito, subito, tornate destro subito, tornate destro sinistra 4 per destra 3 30 destra 5 lunga per attenzione, tornate sinistro attenzione, tornate sinistro 80 sinistra 5 destra 5 destra 5 sinistra 3 destra 5 sinistra 3 qui 3 destra 4 lunga due tempi 30 sinistra 4 per destra 4 per sinistra 3 tieni subito, tornate destro subito, tornate destro destra 4 sinistra 4 destra 4 sinistra 4 diventa 3 4 diventa 3 destra 3 sinistra 4 100 questo è un 4 e ai 100 muro attenzione, tornate sinistro meno 8 100 vista ehi calmo destra 4 sinistra 4 lunga chiude 4 lunga chiude destra 4 sinistra 5 destra 5 sinistra 4 4 questo è destra 4 e destra 4 ancora e sinistra 3 subito, tornate destro destra 4 sinistra 4 sinistra 3 per destra subito, tornate sinistro 50 destra 4 destra 4 per destra 3 per sinistra 3 per 3 questo è per sinistra 3 per destra 3 chiude 3 chiude per sinistra 4 tunnel 4 tunnel per sinistra 4 ancora per destra 4 lunga chiude 3 sinistra 4 steccato destra 4 4 steccato destra 4 sinistra 3 destra 4 sinistra 4 destra 4 50 destra 5 sinistra 6 per sinistra 6 attenzione sinistra 4 lunga chiude lunga chiude lunga chiude 50 destra 4 sinistra 4 4, sinistra 4, Biris destra 3, destra 3 sinistra 5, lunga attenzione, tornante destro 30 destra 4, per sinistra 4 per destra 5 40, calma sinistra 4, moltissima attenzione tunnel, destra 3, chiude, chiude 3, chiude, chiude meno 10 sinistra 4, vai 80 sinistra 4 per destra 5, due tempi sinistra 5 destra 5 calma sinistra 5, destra 5 ancora 200 grande, bravo là in fondo il muro destra 4 è un 4 per sinistra 5 lunga lunga vai lunga lunga vai destra 4 è un 4 50 cartello sinistra 4 meno lunga 100 sinistra 5 per destra 4 meno per destra 5 attento che è vicido 50 cartello destra 3 meno cartello destra 3 meno 30 sinistra 5, due tempi destra 5 per sinistra 5 per sinistra 5 lunga 50 50 shikan entra destra sinistra 4 lunga lunga 100 bravo 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 Grazie a tutti